Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video oggi per il video del martedì che di solito vi faccio vedere i tre prodotti make up della settimana ho deciso di parlarvi di un solo prodotto perchè si tratta di una palette la palette in questione è questa qui della marca Deli Plus la Makiya Sombra Hocos Mirada Luminosas come avete potuto vedere è una palette spagnola che mi ha regalato una mia amica quando è stata in Spagna vicino Madrid visto che lei sa la mia passione per il make up ha deciso di regalarmi questa palette che l'ha comprata mi sembra in una catena di supermercati abbastanza famosi che si chiamano Mercadona dove all'interno di questo supermercato c'era anche il reparto profumeria e lei ha trovato questa palettina qui e me l'ha regalata è in cartone si presenta così dietro anche che ha una piccola spiegazione su come creare tre tipologie di look il look del giorno il look del pomeriggio e il look per la sera ricreabili con gli ombretti all'interno all'interno infatti si presenta così la palette con questo specchietto qui su scritto flash nude vabbè abbiamo la plastichina solita e due applicatori che come vedete sono sigillati perché non li ho usati ok la faccio vedere così bene i colori sono questi quindi tutti i toni sul nude però sono dei toni abbastanza particolari perché abbiamo di opaco abbiamo due opachi questo e questo marrone qui quindi un panna ed un marrone per il resto sono tutti quanti satinati quindi abbiamo questo panno opaco un taupe un taupe un po' più scuro e qui poi c'è un rosino un grigino sempre il pro tendente non al grigio proprio ma sì ha un talpa un oro questo qui è il colore chiaro però leggermente bellantinato il marrone opaco che è un marrone abbastanza neutro è un marrone abbastanza neutro poi abbiamo qui un taupe molto più scuro però tendente più al freddo un grigio e un nero un nero grigio qui diciamo che sono divisi per look abbiamo un fina qui quindi questo 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 questi quattro per creare un look proprio nude poi abbiamo questo questo dorato sabbia col dorato e questo e questo qui per creare un look per creare un look un po' più colorato e invece questi ultimi tre colori per creare proprio un look scuro però comunque potete giocare benissimo con i colori adesso vi faccio qualche swatch quindi questi sono gli swatch dei primi quattro colori quindi qua magari così li vedete bene di questi primi quattro colori come li vedete qua quindi quello più a sinistra è questo poi l'altro è questo e l'altro è questo e l'ultimo è quello un po' più rosato che è quello più scuro dalla videocamera li vedete molto sfalsati semmai faccio dei zoom poi dopo comunque il color panna mi piace molto perché è veramente un bel colore illuminante è abbastanza scrivente molto e gli altri colori anche si notano a dir la verità quindi uno è un po' più perlato e l'altro è il più rosato poi l'ultimo è quello più bello secondo me perché è un ramato è un ramato ovviamente molto bello questi qui sono i quattro seguenti a partire da questo poi l'oro il bianco perlato e il marrone quindi come potete vedere il bianco perlato è molto illuminante ed è questo qui poi abbiamo il griggetto tendente un po' diciamo al dorato il dorato che è veramente molto bello e il marrone che è quello opaco per essere un opaco non scrive molto infatti ho dovuto fare molte passate per ottenere questa colorazione però per il resto comunque sono tutti quanti colorini che tendono ad assomigliarsi molto tra di loro soprattutto i primi quattro di questi escluso questo qui però i primi quattro tendono ad assomigliarsi molto anche se però hanno delle tendenze molto diverse di colorazioni però perlomeno sono tutti quanti questa sorta di questa sorta di satinato che ha magari un po' più di rosa un po' più di griggetto un po' più qua vedi ha più grigio qui invece più rosato invece proprio questo qui e questo marrone si differenziano infine abbiamo gli ultimi tre quelli più scuri che come potete vedere sono anche più pigmentati abbiamo questo marrone satinato questo grigio e questo nero che alla fine è proprio nero nell'astruccio vedere più grigio di una volta applicato è proprio nero e sono veramente molto 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 scriventi e sono anche più belli con l'oro allora cosa ne penso sicuramente è una palette veramente molto completa per quanto riguarda i colori perché potete realizzare dei look veramente molto variegati che possono andare da un look molto semplice da giorno ad un look per la sera per il pomeriggio comunque ha anche abbastanza di colori diciamo che non è soltanto nude semplice ma anche dei colori nude particolari come appunto quella amatorosa e quel oro ha due ombretti opachi magari ne avrei messi altri due perché comunque all'interno ci sono quante sono dodici ci sono dodici ombretti di cui soltanto due mattoni ne avrei messi altri due sicuramente l'ho sfruttata molto l'ho utilizzata molto mi piace l'effetto finale mi hanno anche fermato appunto per dire che i ombretti utilizzassi erano proprio questi quindi veramente un risultato buono anche perché il prezzo che ha questa palette è molto poco quindi se vi capita di andare in Spagna o se vi vede in Spagna fatemi sapere se innanzitutto conoscete questa linea la Deli Plus e fatemi sapere se avete provato questa palette comunque ce n'erano anche le altre colorazioni mi ha detto la mia amica e niente secondo me è veramente una buona palette vedete i colori sono veramente molto belli non mi resta che consigliarvela anche perché poi gli ombretti durano li ho usati sia col primer che senza primer gli ombretti durano quindi veramente è un buon affare secondo me anche perché è anche comoda il packaging e il cartone così da portare negli aggi è veramente molto comoda e niente fatemi sapere per questa palette se l'avete già sentita se ne avete spiegato a parlare io comunque ve la consiglio e niente basta ci vediamo in un altro video un bacio ciao ciao